ciao amici siamo arrivati a 20.000 iscritti 20.000 iscritti approfitto di questo video che vedremo sicuramente in pochi per celebrare questo successo perché è stato un anno magnifico per quanto riguarda il nostro canale siamo cresciuti tantissimo ora non è che voglio essere presuntuoso però il successo va sempre celebrato perché il successo non è mai definitivo non so se nel futuro continueremo a salire o scenderemo o rimarremo così quindi è una grande occasione questa dei 20.000 iscritti è un grande traguardo che abbiamo raggiunto perché se vi ricordate parlo a chi mi segue dall'inizio abbiamo messo quasi due mesi per avere i primi 100 iscritti un altro mese e mezzo due per avere mille un anno per i 10.000 e adesso in poco tempo se abbiamo già raddoppiato e siamo a 20.000 e quindi amici quest'oggi celebro con voi questo evento dei 20.000 iscritti stappando lo spumante nel frattempo vi volevo dire che visto che abbiamo raggiunto questo grande risultato mi sono concesso un paio di spese pazze che sono il cappello che state vedendo con la e stile superman stile supereroi ecco vabbè 5 euro di cappello e una new entry che è il pollicione questo è stata un'altra spesa pazza vabbè 14 euro voglio dire comunque meno di 20 euro tutte e due però il pollicione perché è come se voi foste imperatori romani e io sono il gradiatore quindi mi raccomando se state guardando questo video pollice in su perché mi è costato pure 14 euro voglio dire non è tanto però vedo che continuiamo a crescere a ritmi esponenziali il merito penso che solo vostro perché poi alla fine io produco dei video sempre con lo stesso obiettivo cercare di produrre qualcosa che sia interessante che sia utile a una persona a cento persone a mille persone quelle che siano allora amici brindiamo stappando questo spumante e con l'occasione io voglio fare un grande augurio a tutti voi che mi state seguendo allora intanto vediamo di aprire questa bottiglia e poi per il brindisi voglio ringraziare un po' tutti ovviamente solo di iscritti siete 20.000 non è che posso nominarvi tutti e cercherò di evitare questo ci siamo allora facciamo questo brindisi voglio ringraziare tutti gli iscritti un brindisi e buone feste e buon anno a tutti coloro che si sono iscritti al canale a tutti coloro che sono intervenuti con i commenti a tutti coloro che sono intervenuti con le donazioni io ringrazio ognuno di voi spero che questo rapporto che si è starato tra di noi continui così voi siete sempre liberi di intervenire con i commenti sotto i nostri video possiamo scambiarci delle informazioni io sono orgoglioso di poter dire di poter affermare con certezza che fino a 20.000 iscritti sono riuscito a rispondere a tutti i commenti tutti i commenti che chiedevano una risposta ovviamente di questo ne sono molto orgoglioso perché ci sono stati dei giorni di fuoco in cui mi sono arrivati due trecento commenti centinaia di email richieste delle volte veramente mi è venuta la tendinita al braccio però visto che questo canale è nato dal mio sforzo non è che dietro le spalle ho uno staff tecnico che mi aiuta che mi supporta spero di riuscire a rispondere ai vostri commenti anche quando saremo 30.000 40.000 100.000 e così via però intanto godiamoci questo successo per fare un brindisi a voi alle vostre famiglie con l'augurio che il prossimo anno possa essere un anno che porti gioia felicità e serenità a tutti voi alla salute adesso visto che ho preso il pollicione come nostra mascotte mi raccomando pollice in su se vi è piaciuto il video io vi ringrazio come al solito spero di rivedervi presto un saluto e un abbraccio di cuore